Eccoci qui, avete sentito dal nostro telegiornale, il Presidente Martarella ha fatto la sua prima mossa dando un mandato esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per provare a formare un nuovo governo. Vedremo quali prospettive adesso si aprono o forse già si chiudono. Ma questa sera vogliamo parlare anche di uno storico voto. Lo storico voto del 18 aprile 1948, le prime elezioni politiche repubblicane dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Tutti questi argomenti li affronteremo questa sera in compagnia di Pierluigi Castagnetti. Benvenuto. Buonasera, grazie. Come sempre il nostro punto di partenza sono le aperture dei telegiornali della sera, subito dopo la nostra sigla. Cominciamo. Due giorni di consultazioni. Faremo tutto in tempi rapidi, ha detto la Presidente del Senato Casellati dopo aver ricevuto da Mattarella il mandato esplorativo. Nel pomeriggio ha avviato il calendario delle sue consultazioni. Il primo incontro con i Cinque Stelle. Governo Mattarella dà il mandato esplorativo al Presidente del Senato Casellati per verificare entro venerdì un possibile accordo. Centrodestra-Movimento Cinque Stelle. Consultazioni già in corso ma in salita. Di Maio ribadisce pronto solo con la Lega. Saldini non si presenta a Palazzo Giustiniani. Di Maio dopo l'incontro con Casellati. Un contratto di governo è possibile solo tra Cinque Stelle e Lega. Salvini decida entro la settimana. Il Paese non può aspettare. Al Senato le consultazioni della Presidente Casellati incaricata dal Capo dello Stato di esplorare l'esistenza di una maggioranza parlamentare centrodestra-Movimento Cinque Stelle. Ma per Di Maio la Lega è l'unico interlocutore. Salvini replica non mollo Forza Italia. Berlusconi mai posto Veti Cinque Stelle. Mattarella affida alla Casellati il mandato esplorativo. Due giorni per verificare se c'è maggioranza centrodestra Cinque Stelle. Mattarella affida alla Presidente del Senato Casellati un incarico esplorativo. Entro venerdì deve verificare l'esistenza di una maggioranza. Domani il secondo giro di consultazioni. E dunque la notizia del mandato esplorativo alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati era un po' nell'aria. Oggi sono emerse altre due novità. Il riferimento temporale. Entro due giorni deve tornare al Quirinale a riferire. E diciamo così il raggio d'azione limitato circoscritto alla verifica della praticabilità di un accordo tra Movimento Cinque Stelle e centrodestra. Ci aiuti a leggere questa situazione che si è determinata? Ma a me pare che proprio queste due condizioni indichino un qualche convincimento che il Presidente della Repubblica ha potuto realizzare in questi due turni di consultazioni precedenti. Nel senso che si sarà reso conto che l'unica possibilità di maggioranza parlamentare è quella di un governo tra Cinque Stelle e centrodestra. E probabilmente si sarà anche reso conto che nelle difficoltà confermate ancora oggi dai colloqui che la Presidente del Senato ha già avuto probabilmente c'è una qualche via d'uscita perché le ha detto di chiudere l'esplorazione entro venerbì e quindi vuol dire che venerbì è pronto il Presidente della Repubblica con una proposta. Si sarà fatto un'idea che io non conosco. I costituzionalisti dicono che i poteri del Presidente della Repubblica sono un po' a fisarmonica in queste situazioni ovvero si restringono quando i partiti riescono facilmente a trovare accordi parlamentari e quindi riescono a mettere in piedi un'alleanza di governo e al contrario si aprono, si allargano quando questa situazione, come sembra il caso attuale, non matura. Inevitabilmente il Presidente della Repubblica ha il compito di costruire una maggioranza per poter arrivare all'affidamento di un incarico e dunque deve ricorrere anche alla fantasia. Nel passato abbiamo visto i Presidenti della Repubblica che di fronte ad alcuni incagli e alcune difficoltà si sono, non dico sbizzarrite, ma hanno cercato delle vie d'uscite che non sono canoniche. Penso ad esempio al predecessore di Mattarella, il Presidente Napolitano, quando si è inventato quella commissione dei saggi, poiché il mandato doveva essere vincolato all'approvazione della riforma della legge elettorale, allora si è inventato, e anche della riforma costituzionale, si è inventato un primo lavoro grezzo che il Presidente della Repubblica consegnava al Presidente del Consiglio incaricato, ma anche quello è stata sicuramente una iniziativa senza precedenti, inedite. In questo senso si può dire che il Presidente della Repubblica, dovendo arrivare al risultato, se le forze politiche non l'aiutano deve aiutarsi da solo con qualche altra iniziativa. E quindi staremo a vedere entro venerdì cosa accadrà. Adesso con il nostro Montecitorio Selfie, Augusto Cantelmi, il nostro parlamentarista, ci ripropone un po' la lettura della giornata di oggi con il suo stile che ormai conoscete. Vediamolo e poi torniamo in studio e prendiamo la macchina del tempo, andiamo in un'epoca lontana per capire quanto siamo lontani da quel 18 aprile 1948, quanto invece è rimasto il Montecitorio Selfie. Giorgetti, una missione impossibile quella della Casellati? Mi pare che è una decisione che ha dovuto prendere il Presidente per sbloccare la situazione. Non credo che verranno grandi frutti. Ha il compito di accertare entro 48 ore che i 20 non sono superati. e poi un altro vedremo chi potrà fare la maggioranza 5 Stelle e PD, se non c'è neanche questo sarà il governo del Presidente. Presidente, quella della Casellati è una missione impossibile? Lo so. Ci scommetterebbe? Non lo so. Piscione in posto. Questo deve chiederlo alla Casellati però è al centro-destra. Ciao. Senti, scusate. Manteniamo le promesse, Gigi. Manteniamo le promesse, Gigi. Se hai mandato alla Casellati, voi ci vedete che faccia. Ma io di politica non me ne intendo, noi facciamo mercati. In tempi molto rapidi, grazie. Le solite licenze poetiche di Augusto Cantelme alle quali siamo abituati. Andiamo al 18 aprile 1948. Alcuni dei pareri raccolti da Augusto sono stati presi proprio all'Istituto Sturzo, dove stamattina si è svolta una giornata di studi dedicata proprio a quel voto. Lei era tra i relatori. Peraltro forse non è un caso che i pareri un po' più ragionanti provenissero proprio da lì. Le immagini adesso che vedremo a corredo della nostra conversazione sono sempre dell'Istituto Sturzo relative ad una bella mostra dedicata proprio a questa vittoria italiana. Questo è il titolo della mostra. Io vorrei partire da qui perché quel voto schiuse al nostro Paese anni, decenni di prosperità, di sviluppo, di benessere, di pace. Quindi fu davvero una vittoria italiana, nel senso una vittoria di tutti gli italiani, lo possiamo dire questo ex post, anche degli sconfitti. Beh, come si è soliti dire adesso, sicuramente quel voto è stato un evento periodizzante, nel senso che quel voto ha incanalato lo sviluppo della democrazia italiana nei decenni successivi. Nel senso che quel voto ha fatto delle opzioni nette. Non c'è dubbio, già a Ialta c'era stata l'assegnazione del nostro Paese all'area occidentale, ma il nostro Paese non aveva avuto ancora occasione di validare questa scelta che era stata fatta dai quattro vincitori. Il 1948 è stato l'anno in cui con queste elezioni sostanzialmente si è confermato questa assegnazione. Quello che accadrà dopo, nel 1948, l'adesione alla Nato, la nascita dell'Unione Europea, il ruolo di attore di pace nell'area del Mediterraneo che ha avuto il nostro Paese, è frutto di quella scelta. Gli italiani hanno capito che si trattava di scegliere per la libertà, per sempre o per un rischio, perché in quel momento le sinistre erano legate ideologicamente e politicamente all'Unione Sovietica. A proposito di rischio, il protagonista assoluto di quei giorni fu Alcide De Gasperi, un leader che si prendeva anche a sua volta parecchi rischi. Sembra un po' giocando al rimpallo con l'attualità quello che manca oggi, qualcuno che si assuma il rischio di credere in un suo gesto politico. Faccio un esempio, tornando all'oggi, magari di rimuovere uno dei tanti veti che determinano lo stallo attuale. Non c'è dubbio che questa è stata la vittoria di De Gasperi. È inutile che riduciamo il ruolo di De Gasperi. C'era il volto di De Gasperi nella cabina elettorale quando si faceva quella croce sul simbolo della democrazia cristiana. Era De Gasperi che prometteva una prospettiva di pace, una prospettiva di ricostruzione nella libertà e nella democrazia del nostro paese. Era quel De Gasperi che era già stato parlamentare prima del fascismo, all'inizio dell'esperienza fascista. aveva un'esperienza internazionale perché era stato parlamentare anche a Vienna, prima a Innsbruck e poi a Vienna. Quindi era un De Gasperi molto esperto che metteva a disposizione il suo senso dello Stato e la sua cultura di governo. A me piace ricordare, perché è uscito recentemente un libro sulla biografia di Sergio Paronetto, a Roma negli anni 39-40, un dirigente dell'Iri, a un certo momento diventa vice direttore, Paronetto, un ragazzo perché è morto a 34 anni, era riuscito a fare una scuola di formazione non politica, di formazione al governo della democrazia, quindi prevedere negli anni 39 in pieno regime fascista e 40 che la classe dirigente cattolica avrebbe avuto il destino di governare una democrazia e doveva imparare a governare la democrazia perché non c'erano state altre esperienze che avessero insegnato come si fa a governare in democrazia. Tra gli allievi di quel cenacolo c'erano De Gasperi, c'era Gonella, c'era Spataro, c'era Guido Carli, c'era Saraceno, questo per dire che erano seminari permanenti in via Reno in cui si trovavano per discutere come governare la democrazia. Si formava una classe dirigente. Mentre abbiamo visto scorrere delle immagini proprio dell'epoca, i manifesti elettorali, foto di De Gasperi in campagna elettorale, le vorrei chiedere questo, non solo De Gasperi vinse le elezioni, ma gestì in un certo modo anche la vittoria, insomma promuovendo un anticomunismo democratico che piano piano riuscì a far entrare nel gioco parlamentare anche gli sconfitti, i socialisti e i comunisti. Ecco, questo fu importante tanto quanto l'affermazione forse elettorale per lo sviluppo che ebbe la politica italiana. Beh, intanto mi sono accorto di non aver risposto alla domanda precedente. Sicuramente De Gasperi è il vincitore anche perché si è assunto il rischio, non era sicuro che vincesse la democrazia cristiana. Il fronte, si chiamava così l'alleanza fra socialisti e comunisti, il fronte era convinto di avere in mano il risultato delle elezioni. Longo, che era il direttore di Vienuove, il 18 aprile pomeriggio, fa l'editoriale della rivista che sarebbe dovuta uscire all'indomani sulla ipotesi di una vittoria che invece non c'è stata. Ovviamente quei numeri di riviste sono andati tutti al macero, insomma, no? Solo negli ultimi giorni, allora non c'erano sondaggi. Per la verità c'è stato un sondaggio DOXA, il primo sondaggio DOXA di... Gli albori della sondaggistica. Ecco, sì, che venne poi trattato dall'Avanti e dall'Unità come un sondaggista al soldo della democrazia cristiana, che aveva previsto che la democrazia cristiana avrebbe avuto il 45%, poi avuto il 48,5% dei risultati, dei consensi. Massimo storico. E il partito e il fronte della sinistra avrebbe avuto il 27%, poi arriverà a averne il 31%. In quella situazione fu un risultato molto importante, ma la maggior parte dei dirigenti della sinistra commentò in termini negativi, dicendo che era tutta un'invenzione. Ma c'era soprattutto il polso che il mondo cattolico, le parrocchie avevano, hanno avuto un ruolo importante nel risultato della democrazia cristiana, assolutamente. E a proposito di questa domanda che lei mi ha fatto, sicuramente le vittorie sono spesso più difficili da gestire rispetto alle sconfitte. È evidente che all'indomani di quel risultato la democrazia cristiana ha la maggioranza assoluta alla Camera. La tentazione è quella di gestire la maggioranza assoluta, disinteressandosi degli altri, non preoccupandosi di includere, non sto dicendo il Partito Comunista che era dall'altra parte, ma quei partiti dell'area moderata, centrista, i socialdemocratici avevano avuto il 7% di voti, i liberali, i repubblicani, il Partito d'Azione, insomma, no? E invece De Gasperi ha fatto questa scelta ed è stata una scelta intelligente. Da una parte era, come dire, pressato da Jedda, il presidente dei comitati civici, che avrebbe voluto un'impostazione, la confessionalizzazione dello Stato. E lui resistette a tutto questo. E in un qualche modo, io credo che De Gasperi, 25 anni prima del Concilio, della Lumen Gentium e della Gaudium et Spes, ha dimostrato come si può essere dei cristiani in politica assumendosi la responsabilità di una posizione autonoma anche rispetto a quella della Chiesa. non in contraddizione con la Chiesa, ma assumendosi la responsabilità in nome proprio. E lui lo fece ed evitò, appunto, di commettere degli errori. Persino di fronte alla scomunica ai comunisti che arriverà l'anno successivo, che avrebbe potuto aprire una crisi, delle faglie pericolose. Ma sì, un contrasto, un conflitto sociale enorme. De Gasperi disse, ma è un problema ecclesiale, non è un problema politico. Invece era un problema anche politico per le ricadute. Non si dimentichi perché l'Italia in quel momento ha rischiato la guerra civile, come era avvenuto in Grecia. Ecco, non ci si dimentichi di questo. Era un rischio che era ipotizzato. Anche questo ha contribuito a determinare questo risultato. Sia chiaro. C'era un clima che era fatto così. Ora, vediamo in un giro di titoli le altre notizie importanti del giorno. Poi ho una domanda che ci porterà un po' a oscillare tra quel 1948 e l'oggi per lei. Nessun ospedale può prendere la vita del mio bambino. È volato a Roma il papà del piccolo Alti, il bimbo per il quale i medici inglesi sono pronti a staccare la spina. ha chiesto aiuto al pontetice Francesco Ariscoste. Orrore in una casa di riposo. Le telecamere nascoste svelano botte, insulti e maltrattamenti di ogni genere agli anziani ospiti di una struttura di Castel San Nicolò in provincia di Arezzo. Sei dipendenti indagati, ignari di tutto, i parenti. Uno studente di Lucca insulta e minaccia in classe un professore per un brutto voto tra le risate dei compagni. La scena è ripresa e diffusa sui social. Tre minorenni indagati. Nord Corea incontro segreto a Pasqua tra il segretario di Stato americano Pompeo e Kim Trump. Dialogo avviato. Rallenta la crescita dell'Italia, fanalino di coda dell'Eurozona, produzione inferiore all'attesa, aperte Confindustria, il settore auto il più colpito e slitta al 2021 il pareggio di bilancio, fondo monetario internazionale. Pesa, l'incertezza politica, servono riforme. La domanda è questa. Lei tra l'altro è stato l'ultimo segretario del Partito Popolare italiano. Nel 1948, e poi per molti anni a venire, il popolarismo è stato un valore. Come dal popolarismo del 1948 e a seguire si è passati al populismo del 2018, che viene considerato un po' umanimamente un disvalore? Ma guardi, il popolarismo è la valorizzazione del pensiero del popolo, è il riconoscimento che il popolo ha una sua soggettività originaria. Così come la persona umana ha la sua soggettività originaria, il popolo è la persona in una dimensione comunitaria. E non a caso Sturzo puntò su questa valorizzazione. Il popolismo è la strumentalizzazione dei bisogni e persino della rabbia del popolo a fini elettorali. Non interessa interpretare e aiutare il popolo a risolvere i problemi. Interessa strumentalizzare il popolo per determinare risultati politici che non centrano con l'interesse del popolo stesso. Grazie davvero tanto a Pierluigi Castagnetti per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ricordate la mostra dell'Istituto Sturzo fino al 22 aprile per chi passa da Roma. Il nostro Dulcis in fundo questa sera è dedicato al film Tutti insieme appassionatamente che 52 anni fa prese l'Oscar. Chissà, Tutti insieme appassionatamente potrebbe anche essere una formula governativa dei prossimi giorni. Poi restate su TV 2000 perché inizia un nuovo ciclo di film tutto il cinema del mondo il film di questa sera è Una stella in cucina la storia di una domestica nella residenza diplomatica canadese di Nuova Delhi in India. Noi invece, se volete, ci vediamo domani. Ciao! Do, se do qualcosa a te Re E il re che c'era un di Mi E il mi per dire a me Fa La nota dopo il mi Sol e il sole in fronte a me La Se proprio non è qua Si Se non ti dico no Ed è così che torna il do Se do qualcosa a te Re E il re che c'era un di Mi E il mi per dire a me Fa La nota dopo il mi Sol e il sole in fronte a me La Se proprio non è qua Si Se non ti dico no E così torniamo al do Do Re Mi fa Sol e si Do Sol do